Oggi saliamo sulla nostra moto sembra essere la cura migliore. È una passione che abbiamo cucita sulla pelle. Riesce sempre a far star bene e a farci stare bene. E da questa passione nascono legami forti come l'amicizia, la condivisione e la collaborazione. E tutto questo messo assieme si trasforma in un magico tutt'uno. Riesce sempre a farci stare bene e a farci stare bene. Riesce sempre a fare un'altra maniera. Ok, con questo, vedete, ho il joystick che ti giri. Ok. Oppure, adesso la sei messa perché la fa il follow. Vedete? Lo che ti giri era, però vedete? Ora si è sempre fissa. Non mi ricordo più come è fissata. Pensavo queste immagini del repertorio. Allora, come dovrebbe essere venuto? Perché dovrebbe essere venuto? Ciao! Grazie a tutti 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 Metti un po' di musica leggera Grazie a tutti 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 Grazie a tutti